Ma io non amo molto gli appelli finali, ho fatto una campagna elettorale di quattro mesi e se pensassi che adesso un semplice appello finale potesse far cambiare l'opinione elettore, penso che farà un insulto alla sua intelligenza. Però vorrei dirvi, e in questo penso che potrebbero essere d'accordo tutti coloro che sono qui, di giudicarci sostanzialmente su tre cose. Sulla nostra storia personale, sulle nostre idee e sulla nostra squadra. Io per quanto riguarda la mia storia personale posso tacere, posso far parlare le persone che hanno lavorato con me e anche i miei nemici. Per quanto riguarda le idee abbiamo cercato, anche col poco tempo che abbiamo a disposizione, di darvi informazione su come la pensiamo. Se no ci sono i programmi, se avete pazienza andateli a leggere. E poi c'è la squadra. Tra tutti coloro che sono intorno a queste sedie, io sono l'unico che ha annunciato una squadra con dei nomi che sono le persone che con me, se vinco, verranno ad amministrare Roma. Sono persone per bene che avete avuto la possibilità di conoscerle. Con me al voto potrete scegliere il sindaco, la sua squadra e il suo programma. Ecco, io vi chiedo questo. Qui non siamo in un talent show. Qui siamo a decidere il sindaco di Roma. Quando voi andrete nella cabina elettorale dovete semplicemente scegliere, sulla base di queste tre cose che vi ho detto, se e quale dovrà essere il sindaco di Roma. Quello che dovrà cercare di migliorare la città e di migliorare la qualità della vita, non solo vostra ma anche dei vostri figli.